Buon anno agli ascoltatori di Radio Doppio Zero, chiude un anno 2018 molto molto particolare per la nostra comunità, un anno segnato inevitabilmente dalla tragedia di Anna Rosa Tarantino che ricorderemo il 30 con una messa in cattedrale alle 10 e mezza di mattina e poi con una fiaccolata alle 17 e 30 ma soprattutto stiamo ricordando il suo sacrificio verso, speriamo, un nuovo percorso di legalità di questa comunità attraverso il primo cantiere innovativo di antimafia sociale in collaborazione con tutte le cooperative sociali la fondazione Santi Medici, avviso pubblico e ovviamente capitanate dal nostro comune che ha vinto un finanziamento regionale di mezzo milione di euro. È stato anche l'anno di Bitonto finalista di Capitale Italiana della Cultura, una città che rimarca la sua valenza turistica, le sue enormi potenzialità superando in questo percorso, in questa sfida in questo confronto tra piani strategici della cultura e del turismo, città molto più blasonate tradizionalmente di Bitonto come Benevento, Pestum e tante altre città. Finisce come prima città pugliese tra le dieci finaliste e finisce come capitale meridionale comunque della cultura italiana in quanto unica del mezzogiorno isole escluse ad essere arrivata in finale. Una finale che ha fatto sognare e ha ricomposto la comunità. È stato anche l'anno dei finanziamenti intercettati, acquisiti e messi in progettazione verso un appalto che ci porterà alla riqualificazione da Piazza Castello fino a Piazza Caduti del Terrorismo e di tutto il lungo lama che potrà e dovrà riportare al centro il rapporto tra il centro antico di Bitonto, la nostra città e la lama balice unica città, credo al mondo, che abbia una lama riconosciuta come parco regionale dentro il proprio contesto urbano. È stato l'anno anche di confronti politici forti, un anno di preparazione importante verso nuovi percorsi che vedono Bitonto come laboratorio politico e speriamo anche come trampolino di lancio per tante nuove generazioni che vogliono confrontarsi con questa politica che si divide sempre di più tra antisovranisti e sovranisti. Un anno in cui la comunità di Bitonto ha però voluto lasciare una testimonianza con la cittadinanza simbolica conferita a tanti bambini nati o cresciuti, anche se provenienti da culture e religioni diverse, qui nella città di Bitonto. Una cerimonia molto commovente che ha coinvolto molto la città, una città che ha anche affrontato con grande senso di responsabilità tutta un'altra serie di percorsi, di emergenze che si sono trovati di fronte e che chiude l'anno con tanti cantieri che si sono aperti per gli annosi problemi delle strade, dello scarico delle acque piovane e di altre questioni di cui però possiamo e contiamo di risolvere grazie a 34 milioni di euro di finanziamenti nazionali e regionali che possiamo vantare sul piano triennale dei lavori pubblici di qui fino a quella Bitonto 2020 che contrassegnerà appunto la svolta di una città finita tra le finaliste della Capitale Italiana della Cultura e che presenta e ha presentato un suo piano strategico che è stato ritenuto come meritevole. È stato anche l'anno del record di Cortili Aperti che contrassegna ancora la città come una città particolarmente ricca del patrimonio storico e architettonico, particolarmente rilevante in tutto il meridione che registra ancora un aumento di visitatori e la sua prima apparizione su Canari 5, su una rete nazionale per un evento turisticamente rilevante. Che dirvi, io vi auguro un anno 2019 molto positivo, un anno in cui la comunità si ritrovi maggiormente unita perché se la comunità si ritrova maggiormente unita è chiaro che il lavoro del sindaco è molto meno duro la sofferenza di tanti cittadini la porto dentro, me la carico spesso sulle spalle come tutta l'amministrazione perché il bello del lavoro del sindaco, della propria città, della città in cui si è nati, in cui si è cresciuti non è solo quello di poter lasciare un paese migliore di quello che gli è stato consegnato ma anche quello di portare dentro lo spirito vero di una comunità che soffre, che cresce, che si esalta ma anche forse si dispera di fronte a determinati problemi ma che poi si ritrova unita al momento delle emergenze, al momento del riscatto sociale come Bitonto e Mariotto e Palombano insieme si sono sempre fatti trovare puntuali all'appuntamento io credo molto in Bitonto, credo molto in questo territorio, credo molto nella strategicità del suo sviluppo e credo molto in voi perché senza di voi non avrei vissuto l'avventura a tratti esaltanti che mi sono trovato a vivere ed è credo un'esperienza che non segna solo me ma segna anche un percorso diverso che possiamo intraprendere tutti quanti insieme e una speranza di un futuro davvero migliore. Buon 2019 a tutti quanti!